. Uomini e donne, Camilla incinta? Lo sfogo contro Francesco. Uomini e donne, Camilla mangia pelo contro Francesco Chioffalo, la risposta sulla sua presunta gravidanza. . Camilla mangia pelo di uomini e donna ha deciso di rispondere alle storie di Instagram di Francesco Chioffalo. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha lanciato uno scoop che ha scombussolato tutto il web. Infatti, il Chioffalo ha dichiarato che una delle fidanzate dell'ultima edizione di Temptation Island è incinta. La ragazza in questione non è sicuramente Sara Affifella, assicura Francesco. Si tratta di una giovane che, attualmente, è fidanzata e convive. . Tante sono le polemiche nate dopo la condivisione di questo scoop. . In particolare, l'attenzione dei fan si è rivolta verso Camilla Mangia pelo e Francesca Baroni. . . Le due sono rispettivamente fidanzate con Riccardo Gismondi e Rubenin Vernizzi. . . È proprio la prima a rispondere a questa notizia, attraverso le storie di Instagram. . Camilla parla apertamente a Francesco, dichiarando di non avere mai avuto niente a che fare con lui, ma di essere molto amica di Selvaggia. . . Dopo ciò, la mangia pelo che dichiarato di non essere incinta. . Nel frattempo, Francesco ha pensato bene di rettificare il suo scoop. . . Il Chiofalo ha annunciato che questa ragazza, che attualmente è il dolce attesa, sarebbe fidanzata. . La giovane in questione si dichiarerebbe single, ma in realtà conviverebbe già con un altro ragazzo. . . Francesco Chiofalo lancia uno scoop e Camilla mangia pelo risponde. . . Mentre i fan si chiedono chi mai possa essere questa fidanzata incinta, ecco che Camilla ci ha tenuto a dire la sua, con un tono molto duro nei confronti di Francesco. . No guarda Franche, Riccardo ha detto che ti vogliamo bene lo stesso. . . Io in realtà neanche ti conosco, ti ho visto mezza volta in vita mia. In particolare, la mangia pelo chiede rispetto al Chiofalo. Io ho un legame particolare con Selvaggia e non con te. . E rispettare le persone, che facendo così non guadagni più follower. . . Infine, Camilla confessa non di non essere in dolce attesa. Detto questo, non sono incinta. . . E quando lo sarò, se avrò voglia di comunicarlo, lo farò. . . Ma sono ancora piccina. . Per quanto mi riguarda mi ritengo piccola per avere un bambino. . Camilla mangia pelo di uomini e donne si sfoga contro Francesco e ammette di non essere incinta. . . Di conseguenza, fine della discussione. . Ciao Franche sta mi bene. È così che Camilla conclude il suo discorso. . . Nel frattempo, il pubblico non sa chi potrebbe essere la ragazza incinta, che in realtà si professa single. . Ricordiamo che Sara si trova, attualmente, sul trono di uomini e donne. . Camilla e Francesca sono fidanzate e non si professano single. . Restano, dunque, sotto l'occhio dei fan selvaggia e Valeria Bigella. .